Ci sono sempre momenti in cui siamo rimasti con pochi soldi. Per ovviare a questo problema, fate questo trucco. Non è difficile come sembra. Abbiamo sempre due fish. Quando fate così, nascondete una delle due fish nella mano, mostrate l'altra mano. Quando prendete la fish, la fate scivolare e prendete l'altra contemporaneamente in modo che sembrerà muoversi. Trucchi come questi sembrano troppo belli per essere veri, ma molto spesso lo sono.